e benvenuti e benvenuti e benvenuti in questo video dove oggi faccio vedere come fare exp gratis dunque innanzitutto mettete privata in questa mappa dunque vi dico subito il codice anzi no ve lo faccio vedere dunque da se lo salvatelo e lo faccio vedere questo qua il codice della mappa se lo volete fare ok salvatela e mettete gioca e poi adesso grazie a questi passaggi potrete avere un voto di exp gratis in circa 15 minuti avrete già mille exp un milione di exp credo un milione no magari mille perché con un milione credo che sia a livello mille qualcosa che bello ci vuole un'altra testiera aperta la teresa non è passente avviamo avvio partite in guscia eccoci dentro adesso andiamo subito qua dove c'è questa specie di bunker fate una scala andate qua e fate un'altra scala poi qua vi uscirà un polsantino e ti reagisci poi voi prendete fk xp button e poi potete scegliere una costituzione per fare più veloce io vi consiglio tanto questo questo qua io vi consiglio che aiuterà una spinta più veloce di xp cioè ve lo aiuterà a fare più veloci poi voi potete stare anche in fk e vi darà exp e state lì all'incirca dentro diciamo adesso ma sono uscito per far vedere altri passaggi intanto farli anche più veloce se volete potete editare come sto facendo io ora potete editare se volete non vedete questa giocavanzata stessa perché sennò non sarei così veloci di fare ma faccio schifo dovete andare qua exp shop cliccate e spaccate i pomodori prendete la moneta e ammazzate i polli che prenotante vi consiglio di prendere questo cecchino che vi aiuterà a ammazzare più velocemente i polli poi aspettate 12 minuti in fk 28 minuti in fk giocando per allenarvi come volete aspettate 28 minuti in circa 100 xp in più credo e niente poi se vi annoiate state in fk se volete invece buildatevi allenate così la potete fare anche in pubblica potete fare uno di uno intanto voi prendetevi ex comunque la cosa che vi consiglio di più è di andare qua e fare e fare per no meno 10 minuti uno di questi due adesso ve lo farò vedere meglio dunque questo qua avrà dei gonfiabili dovete saltare poi per uscire potete andare in alto a schiacciare questo pulsante questo qua è quello che io vi consiglio di meno vi darà più ex però vi consiglio di farlo di meno questo adesso andiamo nel secondo se scuscire ok dunque secondo che vi consiglio che vi darà di meno ex ma vi darà meno ex ma più velocemente quindi vi consiglio quello poi non siete obbligati però io ve lo consiglio il secondo è questo questo qua dove ci saranno delle non so come si chiamano e dei trampolini che vi faranno saltare e poi statelo qua in fk 10 minuti mettete il timer se volete e vi fa fare xp spero che vi sia stato utile mi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video prima però prima di chiudere il video iscrivetevi al canale ciate un bel like e attivate la campanellina per non perdervi nessun video ciao ragazzi ciao